Come avete potuto intuire dei nostri preventivi, il noleggio operativo di Aron Technology include una serie di servizi che vanno dal trasporto all'installazione, all'assistenza tecnica limitata, alla gestione dei pezzi di ricambio e alla fornitura dei materiali di consumo, mentre nella vendita le offerte sono completamente personalizzabili. Ma adesso vediamo una panoramica della multifunzione di un oggetto, la nostra Sharp MX2630. Ha uno scanner con la classica ottica e in più l'alimentatore automatico degli originali che ci permette di scansionare in doppia passata un foglio fronte-retro fino a 100 fogli. Nella parte frontale troviamo un display touch da 7 pollici completamente personalizzabile come il vostro smartphone, un ingresso per una chiavetta USB che ci permette di stampare e scansionare direttamente dal nostro dispositivo portatile. Per quanto riguarda invece la connettività, la macchina viene configurata tramite cavo LAN così che tutti i dispositivi che sono collegati ad essa possono stampare sulla nostra multifunzione. Sempre nella parte frontale troviamo uno sportellino dove al suo interno sono disposti i toner ad alta capacità, parliamo di 40.000 copie per il bianco e nero. Le macchine vengono fornite con due cassetti, un cassetto per la 4 e un cassetto per la 3. Per finire abbiamo uno sportellino porta-risme. Sul lato destro invece troviamo il cassetto del bypass che può contenere fino a 100 fogli. Anche qui ci possiamo sbizzarrire perché possiamo andare a stampare etichette, buste, cartoncini, carta lucida. Anche lui può raggiungere una grammatura massima fino a 300 grammi e tutti i cassetti sono completamente personalizzabili dal pannello macchina. Grazie a tutti.